C'è sdegno, c'è dolore tra la gente del quartiere di Leopardi per quanto accaduto domenica sera. Non ci sono parole, non si può morire così. La voce è un'anime. Giovanni Guarino aveva solo 19 anni ed è stato freddato da una coltellata al cuore. Domenica sera purtroppo un ragazzo ci ha lasciato in maniera veramente barbara. Devo dire che queste cose in questo periodo scalcatano troppo spesso ed un ragazzo di 18 anni non può perdere la vita per andare a divertirsi un attimino qui a Luna Park. Sono cose che non dovrebbero succedere in questo momento, in questo periodo storico che noi stiamo vivendo, soprattutto nella nostra città dove siamo purtroppo sempre discriminati per questi gesti violenti. È una cosa che non deve mai, mai, mai più accadere. Tanti messaggi di solidarietà che amici, conoscenti e cittadini comuni hanno lasciato in queste ore sulle pagine social anche della famiglia che, da quanto si è appreso, è conosciuta in quanto impegnata in diverse attività commerciali nella zona del centro cittadino. Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo educato e bravo. È un gesto molto, molto, molto sconcertante perché è una cosa che non dovrebbe mai succedere specialmente oggi nel 2022 perché comunque è una zona di ritrovo per ragazzi, la sera a me è divertimento e sapere che è successa una cosa del genere, è una cosa che noi genitori e tutta la città di Torre del Greco e anche i paesi intorno è una cosa molto, molto sconcertante, è una cosa che non dovrebbe assolutamente capitare. Non ho parole, è una cosa che io non ho parole, sono solo triste, un orgoglio per la famiglia perché immagino in questo momento come stanno, ci sto vicino però è una cosa che non ho parole, non ho parole.